La gara è finita male e peggio anche per quanto riguarda i play-off. Sì, è finita male perché purtroppo non meritavamo, abbiamo preso il primo rigore che era fuori area, dopo abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, abbiamo sbagliato il rigore ma è figlia di una stagione di grande sacrificio che purtroppo per un punto non si è tramutata in un trionfo. Purtroppo noi per un punto siamo fuori e questo è il rammarico grosso per i ragazzi che hanno fatto una stagione veramente straordinaria, i ragazzi staff tutti e andare fuori dai play-off e non giocarsi a Serie A per un punto veramente dispiace, ma dispiace veramente tanto, fa molto male perché non lo meritavamo. Oggi dovevamo giocarci la Serie A diretta e invece siamo fuori dai play-off, è una cosa allucinante. Diciamo che era una gara difficile questa gol Varese che arrivava da una Parigi-Lano Varese e si giocava tutto in questi 90 minuti. Tanto non è cambiato nulla, alla fine il Varese fa i play-out, ma al di là di quello non era difficile perché comunque sono partite che si giocano sugli episodi, purtroppo probabilmente se fossero andati in vantaggio a noi sarebbe cambiata completamente la cosa. C'è stato annorato il gol, non so se era valido o no, però a rigore mi dicono che poi era fuori aria. Questo è un episodio che determina le condizioni e il Varese è sbagliato da noi. La realtà si aspettava un Varese così battagliero? Come tutti, come noi, come tutte le altre, non è che mi abbia impressionato più di tanto. Il ritorno a Varese? No, bello, piacevole. A parte l'aneato l'avversario è piacevole. Grazie.